La pista è vuota, potresti uscire adesso. Auto pronta a partire, liberate il garage. Auto pronta a partire, liberate il garage. 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 Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. A partire, liberate il garage. A partire, liberate il garage. Perdi posizioni, liberate il garage. A partire, 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 liberate il garage. Grazie a tutti. Abbiamo carburante a sufficienza per soli due giri. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. la partenza. bandiera a tutti. Devi utilizzare. DRS ora attivo. a tutti. 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 e... a tutti. non preoccuparti. a tutti. niente. a tutti. 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 dobbiamo accelerare. a tutti. 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 ti trovi. a tutti. 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 a tutti.